Sono rimasti in silenzio i tifosi della Chapecoense, la squadra dei Miracoli che in tre anni aveva ottenuto due promozioni e poi direttamente una qualificazione alla Coppa Minore Latinoamericana ed era la finale che andavano a giocare in Colombia contro l'Atletico Nazionale, i cui giocatori chiedono ora che il titolo venga assegnato ai brasiliani. Anche il presidente del Brasile, Michel Temer, ha detto poco. Purtroppo tutto quello che possiamo fare, a parte piangere per quelli che ci hanno lasciati, è organizzare l'assistenza del governo federale per le famiglie in dutto. Temer ha poi aggiunto che si stanno organizzando i viaggi delle famiglie per recarsi sul posto e mentre i corpi delle vittime vengono portati negli obitori, nel mondo si susseguono le manifestazioni di solidarietà. La forza Chape risuona ovunque, dai posti Neymar fino al rivale storico del Brasile, Diego Armando Maradona, che ha espresso le sue condolianze ai familiari dell'equipaggio, oltre a quelli dei giocatori, e ha poi aggiunto da oggi tifo Chapecoense.